Puoi passare a un tasso fisso oggi e poi tornare al variabile quando scende? Deve essere esattamente il contrario il meccanismo perché quando tu stipuli esempio come succedeva tre anni fa un tasso variabile tu stai sbagliando perché i tassi sono talmente bassi che hai la certezza che possa solo salire il tasso di interesse. Quindi quando ci sono i tassi bassi si fa il tasso fisso quando i tassi sono alti come per esempio sono oggi ha più senso attendere e continuarsi a tenere un tasso variabile per n mesi perché se tanto tu vai a fare una simulazione con il tasso fisso andresti a pagare qualcosina in più già di quello che tu stai pagando oggi con un variabile quindi attendi con il variabile e aspetta che i tassi scendano. Ma quando i tassi scenderanno bisogna sguicciare su un tasso fisso oppure su un prodotto misto esempio tasso fisso per 5-10 anni e poi si rivede cosa capiterà più avanti quindi ricordatevi il tasso fisso va stipulato quando i tassi sono bassi il tasso variabile va stipulato quando i tassi sono alti non ci sono altre soluzioni secondo me seguitemi e se questi video vi sono utili ditemi anche solo grazie nei commenti.